Il programma è offerto da Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare. Su, ora intervieni anche tu, un gol, ti basterebbe un gol, e la felicità scoppia dentro di te, un gol, forza soltanto un gol, per sette giorni avrai. Buonasera, rieccoci qui, ben ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio, i campionati ormai sono agli sgoccioli, ma noi continuiamo con il nostro appuntamento. La notizia di giornata è che Bobo Santi ha azzeccato un pronostico, l'unico scorso qua aveva detto che la finale play-off del giorno B di Serie D sarebbe stata quella fra Cilivega e Virtus Bergamo, e ci ha preso, perché il Cilivega ha battuto la propatria, la Virtus è andata a vincere a crema con la pergolettese e la finale sarà appunto fra Bresciano e Bergamasca, le uniche due, delle quattro arrivate nella parte finale, che non hanno il campo per poi eventualmente fare la guerra pro, nel caso venissero riprescati. Fra l'altro il Cilivega è quello che in assoluto, a conteggi fatti, Giulio conferma questa cosa ma l'ho letta sul giornale di Brescia, ha il miglior punteggio, cioè se dovesse vincere i play-off di tutti i gironi di Serie D sarebbe la prima... Prima in gravatore di riprescaggio, perché è arrivata seconda chiaramente con i punti maggiori di tutte le altre seconde, quindi vincesse i play-off sarebbe prima in gravatore di riprescaggio. C'è il problema chiaramente strutturale perché chiaramente Ciliverga non ha lo stadio per la Lega Pro. Assolutamente sì, e questo sarà un problema che a cascata finirà anche sugli altri gironi, non so come si è messo il Gozzano, l'unico è il Varese nel girone A che potrebbe avere questa possibilità. Girone A e partiamo con gli ospiti proprio da lì, Achille Marzolini, il mister dell'Inveruno. Possiamo dire molto più deluso dell'anno scorso? Sì, molto più deluso di sicuro. Perché l'anno scorso? Perché l'anno scorso era un po' una sorpresa, quest'anno con la base che avevamo ottenuto e siamo stati anche per solo una domenica primi e non era assolutamente facile. Questo play ho sfumato all'ultima giornata con la classifica avulsa, differenza reti e quant'altro. Sì, un po' di casino anche nel conteggio, ma alla fine vuol dire che se non li abbiamo fatti e non li abbiamo centrati non meritavamo di farli neanche quest'anno. Girone B di Serie D, nuovo assetto societario per il Seregno, lo avevate già preannunciato qualche mese fa e la settimana scorsa c'è stata l'ufficializzazione, Matteo Fraschini, veste di amministratore delegato, giusto? Esattamente, buonasera. Buonasera e poi faremo vedere anche l'intervista raccolta dalla sottoscritta in conferenza stampa, così vi daremo ai nostri tifosi di Seregno che sono sempre ben presenti un po' di notizie che già comunque avrete appreso dagli organi di stampa. Giulio Mariani, capitano della Castellana, prima volta qui ospite con noi, collega, perché giusto scrivi, perfetto. Castellana che è andata in salvezza tranquilla quest'anno, però forse anche qua ci si aspettava visto poi l'annata scorsa qualcosa di più. Sì, esatto, un po' come l'Inveruno, ecco anche noi l'anno scorso eravamo una sorpresa perché siamo arrivati ai play-off, magari pochi se l'aspettavano. Quest'anno gli addetti ai lavori ci mettevano un po' più su, invece abbiamo un po' deluso le aspettative, però insomma puntiamo sull'anno prossimo. Claudio, ciao, puntuale, quasi puntuale diciamo così, mettiamola così. Quasi puntuale sì, anzi mi stavate facendo il tranello, volevate partire con un attimo di anticipo, invece io ero fuori dalla porta, no vabbè, ringrazio sempre per l'ospitalità, è un piacere essere nei tuoi studi e poter essere sugli schermi di Videostar. Hai sentito il patrono Fogliazza dopo la delusione di ieri? Sono sincero no, la delusione è stata tanta perché io mi ero permesso di fare una telefonata nel pomeriggio ma per sentire degli amici che si erano organizzati per sostenere la Pergolettese, sono i ragazzi della Curva Sud e credevo davvero che tutto potesse evolgere a loro favore, anche quello che in settimana era successo un po' in società, la Virtus, parlo della situazione della questione Marco Mancin che lascia il consiglio d'amministrazione e così via, cioè credevo davvero che la Pergolettese avesse tutto dalla sua parte, cosa che invece non è accaduta e oggi insomma sì, si ringrazia la squadra per il campionato fatto ma credo che davvero l'amaro in bocca sia tantissimo e sia un boccone anche un po' amaro da digerire. Giulio, niente calcio di letto antistico per te nel fine settimana, eri impegnato in ben altro però naturalmente hai visto i risultati, Villavalle fuori dal FAS nazionale dei playoff di eccellenza, c'entra la calcio romanese che aveva sfiorato la promozione sulla Coppa Italia e poi è stata eliminata in semifinale, c'è il prova, quindi una stagione veramente intensa per mister Mignani, Bulla e compagni. Sì, visto che il Gionici quest'anno non ci ha regalato gioie come Bergamaschi in termini di promozione, c'è la romanese però che si è fatta valere in Coppa e sta tentando alla grande adesso con il discorso dei playoff. D'altra parte, però si sapeva comunque che era un big match tra due squadre, anche a Casadesio e a Rogoredo, che ha voglia di salire in Serie D, una squadra comunque forte e quindi era molto equilibrato anche quell'aspetto. Il Bob Arnum ha detto che si è presentato, si aspettava forse una squadra ancora un po' più carica, ok, come entusiasmo, invece ha preso il gol quasi subito, se legge le croniche ha preso il gol dopo neanche un minuto, quindi quello ha segnato in effetti anche l'indirizzo della gara. Allora, abbiamo già anticipato un po' di quello che è successo e andiamo a vedere con la grafica il riassunto. Partiamo dal girone B di Serie D, dove si giocavano le due gare di playoff che sono secche, mentre per il playoff bisogna aspettare domenica. Il Ciliverga ha vinto 2-1 con la Pro Patria, il Virtus Sanatavien, cioè 2-1 sul campo della Pergolettese, quindi domenica 21 maggio sul campo del Ciliverga e la finalissima del girone tra Ciliverga e Virtus Bergamo. Il playoff, anche qua rimandato a domenica, anche qui secco, Scanzorosciatelevi con il Gionatese Lettico, si giocheranno. Qual è il nome dello Scanzorosciate? No, non voleva essere così, assolutamente, l'ho fatta io la grafica, ma nessuna responsabilità scrivendo di fretta. A proposito di partenze, invece non vedo nessuno davanti alla nave, davanti al traghetto, sarà partito Bobo, sarà la volta buona, lo diciamo nell'arco della puntata, perché stiamo tenendo con lui i contratti, sta definendo le ultime cose, però vedete, non c'è, sarà su quel camion bianco, vi daremo informazioni a seguire. Il fatto è festeggiare il pronostico azzeccato di domenica scorsa, dopo che tutti gli dicevano che i suoi pronostici non vanno mai a buon fine. Andiamo a vedere un po' di immagini, andiamo a Crema, si giocava appunto questa semifinale, primo turno di playoff, sicuramente la Virtus era una bestia nera per golettese, perché comunque a Crema è sempre riuscita a fare risultato, comunque non ha mai perso e anche ieri, nonostante sia andata sotto di un gol, è riuscita poi a ribaltare il risultato. Andiamo a vedere grazie all'ufficio stampa e alla Virtus Bergamo quello che è successo a Crema fra per golettese e Virtus. Pubblico delle grandi occasioni al Voltini di Crema per la semifinale playoff del girone B della Serie D, per il match che vede di fronte la per golettese alla Virtus Bergamo, una Virtus Bergamo che propone dal primo minuto la novità Flaccadori al posto di un Morosini che non ancora ha recuperato dall'infortunio, patito contro il Pontiso e al completo invece i giallo-blu orfani del loro mister squalificato. Alla prima occasione, al primo a fondo passa la per golettese, Manzoni scambia con Dimash che di tacco serve ancora il capitano di casa che batte l'incolpevole Cavalieri. Cross di sec dal fondo al nono, Porcino viene lasciato solo, conclude di testa a rete per il pareggio immediato dei ragazzi di Madonna che provano un minuto dopo ma sul corner il colpo di testa vincente di De Angeli, c'è un fallo sullo stesso Dimash, sempre protagonista del match, rispondono i padroni di casa, colpo di testa ravvicinato di Rossi che anticipa Sec ma Cavalieri fa buona guardia, ancora i padroni di casa Dimash dalla lunga distanza al ventisettesimo, palla altra, gran bomba, ancora Dimash ancora al suo sinistro, stavolta Cavalieri in due tempi senza problemi, palla filtrante per lo stesso Dimash che prende il tempo a Meregali, conclude potentemente il portiere dalla Virtus, risponde ancora, Sec riccazione personale a metà campo, sinistro, palla a lato, è un buon momento della Virtus, il finale di tempo, lancio di Porcino, a Modeo su filo del fuorigioco, pallonetto alto di poco al quarantesimo, un minuto dopo ci prova a Modeo, si trascina due uomini, conclude, para a terra Leoni, ed ecco l'episodio che decide la partita, Flaccadori buono il suo guizzo, calcio di punizione, da pochi metri fuori area, si incarica Michele Magrin e la infila sotto il 7, alla destra di Leoni per il gol del 2-1, vantaggio Virtus alla fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa di padoni in casa ci provano, spinti anche dal loro caloroso pubblico, il cross pericoloso in avvio, Cavalieri sulla linea, riesce a proteggere il pallone su un cross dalla sinistra di Boschetti, Dimash, palla bassa, per poco non interviene il compagno di squadra Rossi, ancora palla dalla sinistra, stavolta è Rossi che ricambia piacere, riescono ad arrivare sul pallone, l'occasione più ghiotta è proprio per l'attaccante straniero, gran parata di Cavalieri e ci prova anche a Modeo dall'altra parte, ancora di sinistro e ancora Leoni risponde presente, ottima chance per Capitan Germani ma il suo destro è troppo debole. L'ultima vera occasione del match è un gran destro di Pedra Bissi da sinistra ma ancora una volta Cavalieri risponde presente, siamo al 42esimo e sul calcio d'angolo Lex Ghidini spara di testa alto di poco. Nel finale viene espulso per proteste Leoni, estremo portiere di casa, in porta ci va Dimash ma l'arbitro pochi secondi dopo fischia la fine del match che manda la Virtus Bergamo alla finalissima play-off in quella di Ciliverghe per domenica, quindi 21 maggio, mentre per i padroni di casa salutati dal loro caloroso pubblico c'è il ramarico per l'eliminazione alla semifinale play-off. Ovviamente Bobo non ce la fa a non essere presente, manda un messaggio dicendo la paragolettese ha pagato fisicamente e mentalmente la buona stagione, l'ha risicata rosa, Virtus vinto meritatamente e mi ha dimostrato che con un po' più di continuità aveva potuto vincere anche il campionato. Matteo, sei d'accordo o il Monza era imbattibile? Il Monza mi è sembrato una spanna soprattutto, è una squadra che ha preso pochissimi gol e comunque anche un parco offensivo veramente importante da Del Rico allo stesso palazzo che ha ripetuto l'ottima metà stagione che ha fatto lo scorso anno, anche chi non ha giocato dall'inizio titolare poi si è rivelato comunque decisivo. Monza diciamo che era un po' come il Piacenza l'anno scorso, qualcosa di inarrivabile per tutti gli altri, poi noi abbiamo provato a fare il nostro campionato, ha fatto un gran campionato al Ciliverga e lo dimostra anche la finale che andrà a giocare. Virtus per Golettese, altre squadre che si sono comportate benissimo ma appunto Monza è stata un'altra categoria quest'anno, mi ho visto. Achille, Piacenza l'anno scorso, Monza quest'anno per vincere i campionati bisogna prendere pochi gol e farne il necessario, noi non vincerai mai un campionato? No, speriamo di sfatare questo tabù, di riuscire a farne ancora più di 71, quelli che abbiamo fatto quest'anno e di vincere. Che sono secondo me nel rapporto occasioni create e gol fatti ancora pochi perché io quando guardavo le vostre immagini potevano essere ancora più numerosi. Il problema nostro è proprio quello comunque, in due anni siamo riusciti a farci dei gol anche veramente rocamboleschi e al limite del ridicolo. Cercherò di migliorare che sia in vero uno o dall'altra parte perché comunque è un limite che magari un allenatore deve cercare di correggere. Credo che sia anche più un problema di che tipo di giocatore abbiamo e sinceramente io ecco un piccolo difetto che ho trovato, parlando anche poi col presidente e il direttore, era proprio quello di avere almeno dei difensori che di solito di indole io da giocatore, i compagni erano forse i più cattivi, dovrebbero averlo un po' da parte loro, invece noi siamo forse fin troppo belli, fin troppo leziosi già da dietro e un po' meno cattivi e meno maliziati in certe cose. Allora andiamo a sentire un po' di interviste, partiamo da Pasquale La Scala che festeggia il passaggio del turno della Virtus Bergamo ed è naturalmente contento di questo stadio che porta particolarmente bene alla squadra bergamasca. Soddisfazione per aver passato il turno qua al Voltini? Soddisfazione massima da parte di tutta la società ovviamente, sapevamo che non era una partita semplice, anche perché la Pergo è una squadra tosta, una squadra che ha dimostrato comunque di valere assieme a noi, assieme alle altre i play-off, quindi tanta soddisfazione, soddisfazione, veramente da parte di tutti, c'è il Presidente D'Abasso che ci ha fatto i complimenti, questo ci ha dato molto piacere, quindi niente, partita. Avete perso in casa, pareggiato dal ritorno al Voltini, avete detto la partita più importante? È questa, è la partita più importante, veramente, la partita giusta è stata vinta, adesso andiamo a fare questa finale a Ciliverghe, vediamo come va. Ecco, a proposito di questo, è stato determinante e importante, anche per non permettere di allungare la squadra, pareggiare subito? Sì, diciamo che è stata la nostra fortuna pareggiare subito, perché se fosse passato del tempo avremmo speso tantissime energie, soprattutto per rincorrere il risultato, una volta che la squadra ha pareggiato, l'abbiamo incanalata un po', come avete visto, sul piano tecnico, perché devo dire, tutta la squadra ha giocato bene, però le trame, le geometrie di centrocampo, con Magrin, con Porcino, con lo stesso giovane, diciamo, Flaccadori, che comunque ha corso veramente tanto, e il lavoro di tutti, dietro, incomiabili, davanti hanno tenuto bene palla, devo dire che queste partite se non le fai bene, se non ci metti veramente tutto, non le puoi vincere, soprattutto qua al Voltini, molto difficile. Naturalmente arrivando i vostri messaggi, ci chiedono se è possibile, adesso sento in regia, ma non credo, perché quello che abbiamo è quello che avete visto, rivedere l'episodio in cui il portiere della Virtus entra in porta con la palla, di questo non dice niente, nessun arbitraggio scandaloso. Virtus Bergamo, difesa di ferro, Meregalli, De Angeli, Scannapieco ancora a 90 minuti, fra l'altro si incontreranno domenica all'attacco più forte del girone, perché il Ciliverga ha segnato 75 gol e la difesa più forte del girone, perché la Virtus ne ha presi 34, per cui sarà bello anche vedere questo confronto. Qualsiasi squadra si costruirà, noi saremo sempre con voi, grande direttore, e Curva Nord Morel, e Curva Nord Seregno. Non è un messaggio che arriva a caso, nel senso che si è passato dei proclami degli ultimi anni, giustamente, visto che di Nuno questo voleva fare con la sua squadra, cioè andare in Lega Prova di vari tre professionisti, alla vostra conferenza stampa di settimana scorsa, che è stata molto chiara della serie, si fa quello che si può fare, abbiamo un settore giovanile che è importante e dobbiamo ricostruirlo, comunque dargli dei mezzi, dei campi, delle cose, e quindi la priorità sarà mediare queste due cose, quindi salvarsi, l'obiettivo, e puntare sul settore giovanile. Esatto, salvarsi è brutto da dire, forse, diciamo mantenimento della categoria. Di Nuno ha speso tanti soldi in questi tre anni e mezzo e non si è tolto, secondo me, le soddisfazioni che avrebbe meritato per le risorse e l'impegno che ci ha messo. Noi dopo una stagione tribulata con appunto Di Nuno che ha deciso di mollare sostanzialmente dall'oggi al domani, ci siamo presi carico di portare la barca in porto e di programmare le prossime stagioni, è un programma a lungo termine, fatto di investimenti sulle strutture, sul settore giovanile, la prima squadra logicamente c'è, si allesterà una squadra per il mantenimento della categoria, puntando sugli uomini prima ancora dei calciatori, perché sono loro che poi sono delle idee, ci daranno tante soddisfazioni a noi come dirigenza e a Seregno come città e come tifoseria. Giulia, fu poi tu di società, non è il caso del Seregno, ma ne abbiamo viste tante, dalla Varese prima, alla Monza poi, che salta di Nardia? Tu arrivi dal Mantua. Io arrivo dal Mantua, sì, ancora sette anni fa è stata una dei colpi a livello personale peggiori, anche perché essendo io mantovano, nato a Mantua, cresciuto nel Mantua, è stato un duro colpo il fallimento, però poi ha avuto la forza di ripartire dalla Serie D, di vincere la Serie D e adesso ancora la situazione diciamo che non si è ristabilita e anche quest'anno si rischia grosso. La speranza e l'augurio che posso fare al Mantua da sette anni a questa parte è che possa ritrovare la serenità societaria e poter ritornare ad Ambira quelle categorie diciamo che spettano a una città e a una storia come quella che è il Mantua, cioè la Serie B. Allora, Seregno Passariello era in panchina alla forza di Mr. Curti che era squalificato, per cui è lui che si è presentato in sala stampa a fare la chiusura delle considerazioni dell'anno poi abbiamo naturalmente anche Fogliazza, ma diamo prima la parola alla mista della Juniors della Pergolettese. Panchina è stata una gara mista a ben aperta con il gol del vantaggio, nel secondo tempo avete provato il tutto per tutto per rimettere in carreggiata la partita e non è uscito il gol. Voglio fare una premessa, la partita di oggi per me è una gratificazione perché comunque sono stato scelto dalla società ma soprattutto da Pierpaolo e da Tiziano Lunghi per cercare di dare una mano. Ho dato il massimo delle possibilità che avevo e sono contentissimo per l'opportunità che mi è capitata e per il contributo che ho potuto dare. Peccato che la partita non è andata bene, è stata aperta nel miglior modo possibile e dopo, secondo il mio punto di vista, potevamo fare meglio in alcune situazioni, soprattutto quando la palla ce l'avevano loro e invece non siamo riusciti. Giocavamo logicamente contro una squadra molto competitiva e penso che la partita sia stata una partita equilibrata, decisa e condizionata dagli episodi. Basta, però io devo fare complimenti a tutti quanti i ragazzi perché hanno fatto il massimo di quello che potevano dire, di quello che potevano fare e secondo il mio punto di vista va premiata questa squadra perché ha fatto un'annata straordinaria. È stata un'annata veramente molto competitiva da parte di tutti quanti e tutti quanti devono riconoscere a questa squadra questo aspetto. Allora, ce l'abbiamo l'episodio che ci hanno chiesto gli spettatori da casa, andiamo a vedere appunto con la parata di Cavalieri e il suo indietreggiamento, ne abbiamo già abbastanza dalla Serie A con il gol preso dal Genoa Palermo ieri, vediamo di cosa si tratta perché questo episodio non l'avevo vista, c'è il tiro in porta, il portiere della Virtus che poi entra con i piedi, però la palla sembra, signori miei, nettamente fuori, nel senso che deve essere tutta dentro. La porta a terra sembrerebbe che non avesse mai varcato la linea di porta. Tu Achille è lì, per cui ero dalla parte opposta nella prima tribunetta, però ho avuto l'impressione che non era comunque entrata tutta. Cioè dall'immagine qua e fuori, che poi fosse dentro prima che lui la portasse a terra. E poi ecco l'altra cosa, Federica, scusa, se vedi i giocatori della Virtus si girano e l'assistente era perfettamente in linea con la riga. Ah, si girano a guardare, sì. E tutti dicono no, però non fa testo. Lui era posizionato discreta bene e davanti non aveva nessuno che occupava la visuale. Rimane il dubbio, ma... Mentre tu dicevi Giulia, stanno arrivando messaggi sempre in fronte per Go. Sì, in sostanza, tra violette, criticano il fatto che ha preso, all'altro leggo, allora con un allenatore senza esperienza di Serie D, Curti ha preso il primo gol in contropiede. Io in vantaggio di un gol e con due risultati utili, col cavolo che prendeva un gol in contropiede e visto da dietro la porta, questo episodio, dalla curva a sud, il pareggio era valido, il portiere ha preso il pallone dentro, poi lo ha portato in avanti. Non sembrerebbe così dalle immagini, comunque il fatto di avere il vantaggio del risultato, Achille, del doppio risultato, psicologicamente non è. Cioè abbiamo visto in Lega Pro l'Arezzo perdere in casa, la San Benetese andrà a vincere. Sì, le partite sono un po' tutte da giocare. C'è da tenere conto, io ero allo stadio ieri a Crema a vedere la partita, ci saranno stati 26-27 gradi e credo che nell'ultimo mese e mezzo forse non siamo arrivati a una temperatura del genere. Dopo 34 giornate di campionato, quindi nessuna sosta, via, subito la partita di play-off, credo che le energie mentali, soprattutto le fisiche, vanno un po' ricercate. È vero che la Pergoletese è partita benissimo perché ha fatto un gol dopo 4 minuti veramente su un'azione tutta palla a terra, bellissima. È vero anche che la fortuna della Virtus Bergamo, scusami, è stata quella di aver trovato il gol quasi subito e di aver trovato il gol con Magrin su una punizione, a parte l'episodio di Amodeo, all'ultimo minuto su una palena attiva dove Michele ha calciato veramente bene e c'era poco da fare. E se era andata in vantaggio alla fine del primo tempo, al 44esimo, in vantaggio di Due God dopo che era andata in svantaggio, credo che quella sia stata un po'... Quindi è stato già nel primo tempo. Sì, invece per quanto riguarda la Pergoletese, credo che prima si parlava del Monza e la Pergoletese per 12-13 giornate, 14, è stata davanti al Monza, credo che a Crema devono essere veramente strafelici per il campionato fatto, per il terzo posto raggiunto. Con una rosa che è da dire. Ecco, forse quello era forse proprio quello, il problema grosso che ho notato ieri. La Virtus, giocatori fisicamente ben dotati, Amodeo, De Angeli, Porcino, quindi Meregalli stesso e forse anche un po' più di soluzioni. Già il fatto che non giocavamo Rosini e ha potuto giocare un altro ragazzo, Fraccadori e la sostituzione benissimo, quindi forse un po' più di soluzioni. Allora, andiamo in pubblicità. Prima di andare in pubblicità però anticipo un messaggio che sta arrivando via Facebook, c'è anche la diretta via Facebook per Fraschini. Ci chiedono, squadra giovane, non è facile trovare giovani di qualità. Per cui secondo me vogliono chiedere dove andrete a prenderli giovani. Allora, andiamo invece in pubblicità e poi torniamo e vi diamo le risposte. Un grido sa, un gol, basta soltanto un gol, un grido sa. Io il telecomando di solito ce l'ha Ghidotti e vabbè mi avviserete quando ho finito la paca, intanto non rispetto mai nulla per cui. Allora, Bobo continua a intervenire da lunga distanza. Mi dice, secondo me sono gli ultimi giorni per Marzolini e Inveruno. Lega però è nel futuro, vabbè, però non c'è zecca, però l'ultima volta c'è zecca. Per la piazza spero che a Serenio vengano inserite persone che conoscono la categoria a organizzare la società. Melosi nuovo mister mi chiede, la facciamo dopo questa domanda perché abbiamo anche il totto allenatore di cui sembra che nessuno rimanga al suo posto, poi vediamo. Invece torniamo ai giovani per allestire la rosa del nuovo Serenio. Giovani siamo dell'idea, vadano ricercati sul territorio. Abbiamo la fortuna di essere in Lombardia e c'è un bacino d'utenza di giovani stratosferico. Prendere i giovani da fuori, nulla a togliere ai giovani che abbiamo avuto quest'anno, è un'arma a doppio taglio. Magari si prendono dei giocatori che hanno fatto una Berretti o una Primavera e vedono la D come una retrocessione di categoria. Lontani da casa, lontani dalla famiglia, a 18 anni non è facile. Quindi giovani sul territorio ce ne sono. La nostra Juniors lo scorso anno ha vinto il campionato nazionale, ha perso i rigori la finale Scudetto e nessun giocatore della nostra Juniors è rimasto lo scorso anno ed è una cosa che ci ha fatto riflettere parecchio. Quest'anno la nostra Juniors ha fatto bene, non è riuscita a vincere il campionato, tuttavia ha fatto un'altra ottima stagione. Abbiamo lanciato in questo mese e mezzo di nostra nuova gestione ben sette giocatori della Juniors in Prima Squadra. Qualcuno ha anche fatto gol, ha fatto gol Calmi, ha fatto gol Vaini. Hanno fatto buona impressione anche gli altri. Quindi ripartiamo dai nostri, di giovani. Anche perché un giovane che arriva dal tuo settore giovanile, giocare in Prima Squadra lo vede come un traguardo straordinario e mette qualcosa in più che magari manca agli altri. Allora, l'assistente alla metà campo, Ierola, ci dicono da Crema, il gol annullato dalla Virtus, ci dicono da Bergamo adesso sta diventando una cherefa tifosi. Allora, proseguiamo sempre su questa partita, anche perché abbiamo tante interviste da farvi vedere. Cesare Fogliazza, visibilmente anche emozionato a tratti in questa intervista con Antonio Milanese, che rassume un po' l'anno e poi dà naturalmente lo sguardo, anche se magari non era il momento più adatto, ma era giusto chiederglielo. Alla prossima stagione. Chiudiamo l'anno, penso, avvenendo i bicchieri mezzo pieni o mezzo vuoto, è stato un anno positivo, un anno positivo dove ci siamo tolti dalle belle soddisfazioni, la squadra è stato un gruppo fantastico, di problemi proprio non ce ne sono mai stati e questo è fondamentale per una società, era un gruppo coeso che si sono sempre aiutati. Mi spiace perché volevamo provarsi a arrivare più in là, abbiamo detto anche per dare ai tifosi se ne aspettavano qualcosa. Noi, come dall'inizio dell'anno, abbiamo sempre cercato di fare il massimo. Penso noi, la società, il mister, i tifosi hanno fatto la loro parte, vi devo ringraziare. Hai parlato di gruppo, di ottimo gruppo, è da questo gruppo che si ripartirà per l'anno prossimo? Cosa pensi? Cosa succederà quest'estate? Insomma, sei già, hai idea o hai già ragionato? No, come giustamente noi tutti, come tutta la squadra, noi abbiamo parlato in settimana, eravamo tutti, pensavamo solo a queste due partite, questa partita, ecco, una alla volta, volevamo affrontarla e cercare di fare il meglio. Non ci siamo riusciti, c'è un po' di rammarico. Poi adesso faremo questi due o tre giorni in settimana dove troveremo l'occasione per ritrovarci, per salutarsi, per fargli anche i complimenti, perché penso che più di complimenti a questa squadra non si può fare. Noi abbiamo fatto, abbiamo dato a gennaio un giocatore, ci siamo tolti, importante, siamo andati avanti sempre per la nostra strada, addirittura in Serie B, e abbiamo rinunciato a un giocatore importante. Quindi si ripartirà da questi? Sì, io penso che chi vorrà ancora sudare con questa maglia ci siano tanti presupposti che questi ragazzi possano ancora fermare, però ci vorrà qualche giorno, un pochino, perché la ferita un po' di oggi c'è e rimane per qualche giorno, ma poi tra qualche giorno bisogna pensare a quello che può essere il futuro della Pergolettese. Qualche giorno per ripartire, Claudio, ritroveremo la Pergolettese in assi di partenza per vincere il campionato l'anno prossimo. Per vincere il campionato non lo so, sicuramente nella voce rotta di Cesare Fogliazza si legge l'emozione di chi io credo ci credesse davvero fino in fondo e volevano arrivare. Credo che nel corso della stagione forse la Pergolettese abbia, a mio avviso mi permetto di dire, mancato nel momento in cui ha creduto forse che il Monza fosse inarrivabile e nel movimento di mercato abbia soltanto davvero aggiustato con un unico inserimento, un nuovo arrivo, ma in quel momento avesse un po' dimostrato il fatto che considerava inarrivabile la capolista e quindi si accontentava un pochino. Alla fine invece probabilmente, col senno di poi, magari qualcosina di più o qualcosa si poteva usare e avrebbe portato ad un altro risultato. Cesare Fogliazza è uno che vive la partita, la settimana, il contatto con i giocatori in maniera davvero molto diretta dalla tribuna, tra una sigaretta e l'altra, è facile sentirlo imprecare o gioire contro un giocatore chiamandolo davvero per nome, quindi è normale che ci fosse davvero questa grande emozione. Credo, mi risulta, sento dire, comunque che abbiano lavorato bene nella compagine societaria per garantirsi il futuro, per portare in società uomini nuovi, per lavorare bene e per avere anche quelle risorse necessarie per disputare un campionato così importante come quello della Serie D, per cui io credo che partendo da qui possano soltanto lavorare. Giulia, hanno dato dell'inesperto? Anche il discorso di Carletti penso che porti comunque un introito. Sicuramente avranno anche qualche... Il giocatore dato al Carpi. E qualche situazione che qualche soldino lo porterà, però insomma hanno anche lavorato, so dell'arrivo di persone nuove che hanno dato l'infa nuova alla società e ne daranno nel corso della prossima stagione. Hanno dato dell'inesperto Mr. Curti. Se dai inesperto uno chiude il terzo posto e poi si fa il playoff, penso che vada benissimo l'inesperienza. Sì, poi spesso sai che nel calcio da semplici episodi poi si tende a estremizzare il giudizio su un calciatore o su un allenatore. Un altro commento che arriva da Facebook è che cosa se ne fanno dalla vittoria dei playoff alla Virtus e il Ciliverghe? L'hanno detto anche di voi quando eravate in testa al campionato. Vabbè, prima di tutto la soddisfazione di vincere se la toglie. Poi, visto che si può rinunciare, uno rinuncia. Non mica la faccio vincere a chi può. È un po' il discorso di quelli che quando non si arriva e ci speravano, di dire che tanto non conta niente, tanto non si viene ripescati. Innanzitutto il Ciliverghe, che è primo nella gradatura dei ripescaggi, se batte anche la Virtus Bergamo, potrebbe anche, magari dopo una decaduta, una retrocessa della Lega Pro, potrebbe essere la seconda nel ripescaggio per la Lega Pro. Poi bisogna vedere per le strutture, tutte le cose. I parametri rimangono insoliti? No, perché non è un stadio. Alla fine credo che vincere anche i playoff sia, comunque sia, contro piazze, come tu hai detto prima, pergolettese. Pro Patria. Pro Patria, bravissima nel nostro girone il Varese, piuttosto che il Cuno no, perché poi ha vinto. Se qualcuno scenderà. La Caronese che comunque negli ultimi anni è sempre arrivata lì davanti, credo che l'Inveruno che le ha fatti il primo anno di Serie D ha perso il primo turno a Olginate, credo che esserci stati lì a giocare magari questi playoff non poteva che essere motivo di soddisfazione e la giusta ciliegina sulla torta di un campionato fatto ad alti livelli. Se ci fosse l'NVP del match sarebbe sicuramente Michele Magrini, autore di una punizione perfetta che ha regalato alla Virtus questa vittoria e questo passaggio del turno. È il primo gol per lui in campionato, si è tolto la soddisfazione di segnare un gol determinante. Andiamo a sentirlo. Siamo con Michele Magrini, il giocatore che manda la Virtus Bergamo in questa finale di playoff contro Cilio. Grazie, sono molto felice appunto di aver potuto realizzare il gol decisivo per il passaggio del turno della Virtus Bergamo. È un gruppo che se lo merita. Non era facile oggi? No, lo sapevamo che non era facile. Per Gugliettesi è un'ottima squadra, fatta di ottimi elementi, gioca un buonissimo calcio. Noi abbiamo raccolto tutte le nostre forze per fare la prestazione, siamo riusciti a farla e soprattutto a ottenere un ottimo risultato. Ecco, pronti via? Sotto di un gol cosa avete pensato in quel momento? Forse non avete avuto il tempo per realizzare, perché siete riusciti a pareggiare subito, è stato decisivo quello. Sì, sicuramente. Siamo stati bravi a far subito il gol del pareggio, però è una squadra che con l'andare del tempo ha acquisito consapevolezza, è la nostra. e quindi ti dirò, ho percepito questa differenza, se magari iniziando un gol subito pesava tanto, adesso un gol subito non ci ha pesato più di tanto, abbiamo acquisito una consapevolezza che ci permette anche di poter riprendere gli svantaggi. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, ovviamente. Quindi due cose insieme. Io sono arrivata alla fine della seconda parte, ho ancora un'intervista, non sono arrivata alla fine della seconda parte, mi avete detto che dovevo arrivare a 15, sono a 7 più 9, 16, sono addirittura lì fuori, ma se mi dite che vado avanti, vado avanti serenamente. sono più o meno lì. Continuo, magari chiudo il discorso, ho ancora due minuti, allora facciamo una bella cosa, chiudiamo il discorso su questa partita, torniamo da Pasquale Gascara, a cui chiedono più o meno il discorso che facevamo noi, Ciliverga e Virtus Bergamo al finale di questo giorno di play-off, che finale sarà? Solo una curiosità, con che ambizione affrontate la finale play-off? Guardi, a questo punto direi che l'ambizione è massima, cioè siamo arrivati alla finale e cercheremo di portare a casa il massimo dei risultati, sicuramente, quindi ci prepareremo bene, cercheremo di recuperare, come avete visto, Morosini che è entrato negli ultimi dieci minuti, il ragazzo è tre settimane che si allena diciamo alternato, in modo alternato, quindi non era in grande condizione, però ripeto, la squadra è composta diciamo dall'intero organico che si dà da fare, che vuole sempre mettere in difficoltà l'allenatore durante la settimana, però è chiaro, cercheremo di andare e di trarre il massimo sicuramente, diciamo che ormai è una finale, quindi vorremmo vincerla, sicuramente. quindi Morosini potrebbe essere fra gli assenti, potrebbe esserci fra gli assenti anche Bertazzoli che è il compagno ideale di Galuppini nell'attacco del Cidiverghe, sarebbe sempre bello riuscire a vedere gli organici al completo, vedremo cosa succederà domenica, noi andiamo in pubblicità e poi torniamo a vedere quello che è successo nel girone A. Eccoci qua, abbiamo visto, Giulio continua a scrivere di tutto e di più, adesso poi mi basterà i messaggi, abbiamo visto quello che è successo nel girone B con Cidiverghe Virtus in finale, andiamo a vedere quello che è successo nella girone A, perché qui c'erano la Varese, la Caronnese, il Borgosesia e il Gozzano e anche qui i risultati, almeno uno dei due è un po' a sorpresa perché il Gozzano è riuscito a ribaltare dopo essere stato sotto un gol sul campo della Borgosesia il proprio parziale e a vincere quindi la partita è passata il turno quindi nel girone A sono passate la seconda e la quarta qui sono passate la terza e la quarta andiamo a vedere anche qui la griglia di quello che è successo con la vittoria della Varese sulla Caronnese 1-0 e quella del Gozzano per 2-1 sul Borgosesia quindi domenica 21 maggio la finale sarà Varese-Gozzano e poi ci saranno le due gare di play-out Achille ti torna tutto? Varese-Gozzano che ha fatto questo rientro no, non torna tutto perché mancate voi no, perché il Borgo-Sesa secondo me senza nulla togliere alle altre poi magari mi farò dei nemici ma credo che insieme a noi è stata un po' la rivelazione del campionato di sicuro una squadra che giocava molto bene e non sì poi in una partita secca può succedere di tutto e quindi ha perso quel Gozzano in casa come dicevi tu prima per la Pergolettese credo che due risultati su tre si è fatto sfuggire questa finale anche se il Gozzano sinceramente nel girone di ritorno credo che abbia veramente sì, la migliore ha fatto 42 punti e credo che se li faceva anche nel girone d'andata avrebbe vinto di gran lunga il campionato è vero anche che non me ne vogliano invece a Gozzano di sicuro hanno un ottimo budget di sicuro ogni anno partono così così e poi cambiano allenatori cambiano parecchi giocatori nel mercato di dicembre non è sempre facile azzeccare anche nel mercato di dicembre quest'anno di sicuro hanno fatto benissimo e i risultati parlano chiaro hanno veramente fatto un mezzo miracolo Giulio a proposito di allenatori tu hai avuto con gli Andro sì che è stato qui da noi un anno secondo me se non sbaglio Giulio pessimo poi per lui non so che quali di due lui sì ha detto Giulio io parlavo con lui però guardavo te per avere riscontro del fatto che fosse l'ultimo anno in cui poi tutto è nato male ha smesso forse lui quell'anno poi è ripartito dal basso adesso era in Serie D comunque era in Serie D infatti adesso è in promozione no no adesso in Serie D ah però ok adesso in Serie D anche quando era stato qua era in Serie D se non sbaglio però poi ha avuto quel frangente fra Bresciane e quant'altro in eccellenza eccetera eccetera è una messa che tu stimi molto sì 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 tantissimo più che altro perché dopo la mia parentesi al Mantova quando eravamo saliti in Lora C2 io ero stato lasciato a casa e il primo che mi ha dato subito fiducia è stato il mister Cogliandro che mi ha preso che era un ragazzino che avevo 18 anni adesso sei un 92 per cui sei bichissimo abbiamo fatto un po' più di esperienza e comunque insomma mi ha cresciuto sia come uomo che come calciatore quindi a lui devo un po' tutto ecco sono molto legato a lui e gli auguro che possa salvarsi col Vigasio io non l'ho messo in scaletta o forse sì ma l'ho messa dopo l'intervista di allora seguiamo la scaletta le facciamo le brave intervista del presidente del Seregno Castella e del nuovo direttore sportivo Proserpo e andiamo a sentire anche loro che confermano quello che abbiamo detto qui insieme a Fraschini sul futuro del Seregno Presidente il segno riparte con una nuova società e soprattutto con nuovi obiettivi meno prima squadra e più settore giovanile la prima squadra fa parte comunque della società però deve essere un punto d'arrivo per il settore giovanile il settore giovanile che qui a Seregno ha sempre fatto bene quindi secondo me deve essere una linfa vitale per i prossimi anni da qua a due o tre anni e cercare di limitare tra virgolette le spese facendo mercato interno perché dal mio punto di vista magari non vinceremo il campionato però vinciamo qualche sfida perché secondo me il punto di vista il calcio non è solo vincere il campionato o arrivare secondi in Serie B o arrivare terzi ma è magari riuscire a dare un nostro giocatore a una squadra professionistica non voglio dire niente ma ci stiamo lavorando già in questi giorni un nuovo direttore sportivo ha preso una categoria nuova la Serie D soprattutto con un obiettivo che è quello di lavorare molto sul settore giovanile sì sicuramente non sarà non sarà semplice non sono preoccupato che non ho fatto fino adesso la Serie D giocatori ne conosco tanti persone che ho in giro a vedere giovani e tutto come è successo con quest'anno all'azzate che abbiamo portato giovani importanti all'azzate per poter far bene perciò c'è solo da lavorare cercare di di mettersi seduti concentrarsi sull'obiettivo che abbiamo questo è fondamentale quindi ci hanno chiarito quello che già abbiamo detto c'è un messaggio che riguarda i giovani io ho capito cosa fa riferimento nel senso che riprendono il discorso che facevi tu relativamente al fatto che magari scendono dalle primavere giocano lontano da casa e quindi fanno più fatica e portano l'esempio di Scandapieco Virtus Bergamo che invece ha fatto un gran campionato con una storia simile primavera del Genoa e poi finito appunto in Serie D però vabbè le eccezioni ci sono poi ognuno ha la testa che ha e se uno ha una testa di un certo tipo fa bene ovunque buonasera avete notizie sul calcio mercato del Monza grazie buonasera io ho sentito due nomi già da un po' di tempo uno però leggevo Monzagliuse che è stato smentito che è quello di Galoppini del Ciliberghe l'altro è Morosini della Virtus Bergamo e invece Monzagliuse ha rilanciato anche Simeri l'attaccante della Folgore Caratese che ha fatto anche lui una quantità sconcertante nel giorno di ritorno con questa dirigenza la Tremiglia se non ha futuro ragioniero Gigi doveva raggiungerci però la Tremiglia deve essere salvata e a questo riguardo ci dicono il regolamento play out non è giusto ieri abbiamo segnato a Tremiglio e sono passati loro ma il regolamento play out questo dice che se uno o due risultati utili con pareggio e pareggio si salva chi l'ha piazzato meglio che in questo caso era appunto la Tremigliese allora apriamo questo discorso sull'eccellenza così andiamo a vedere anzi no mirate la grafica delle panchine perché non è cambiato moltissimo rispetto a quello che abbiamo detto lunedì scorso è tornata in auge Sgro Ciserano nel senso che l'avevamo messo con una percentuale più bassa lunedì giusto giuglio ma sembra che la conferma di Pogliani come direttore sportivo e quella di Sgro siano vicine vicine ma si è un po' dal trena perché lunedì scorso pensavo che fosse molto vicino poi in realtà in settimana è stata un po' ridimensionata la cosa gli ultimi giorni è tornata in auge quindi direi che ci può stare al 90% con Pogliani che invece aumentano tantissimo le possibilità che rimanga a Ciserano quantomeno con qualche ruolo perché si dice anche che posso fare responsabile massimo nel settore giovanile abbiamo aggiunto le squadre che sono uscite dai playoff per cui la Paragolettese con Curti la Caronese con Gaburro e la Trocata con Iavorcic allora Curti la Paragolettese sembra una questione di tempo Gaburro ha scritto su Facebook che si incontra prossimamente con la società e bisognerà capire i piani dell'uno e dell'altro ci è sembrato di capire che se la Caronese alza il tiro questo sarebbe buona cosa per Gaburro che vorrebbe una società ambiziosa Iavorcic sembrava una scelta fatta per il futuro quanto Claudio comunque un finale di campionato si sa lì pretendono sempre molto non così brillante può influire sulla sua riconferma oppure sul fatto che lui resti perché comunque già il fatto che ci sia arrivato la leggevo assolutamente per quel poco che avevo sentito come una scelta che avrebbe comunque portato la società anche per la prossima stagione quindi da questo punto di vista è entrato già diciamo così nel meccanismo sta già avuto modo di conoscere e direi è più pronto ha più padronanza di tutta la situazione nel momento in cui è terminata questa avventura dei playoff e adesso bisogna programmare quindi colpi di testa ci possono essere fino all'ultimissimo giorno però insomma non credo che sia stata fatta una scelta per solo ed esclusivamente per sostituire l'allenatore e non dare continuità lo dicevi prima lo dicevamo la scorsa settimana la piazza è sicuramente una piazza esigente ma probabilmente facevamo l'esempio un po' come possiamo dire del Monza necessità di avere una stagione in cui ritrovi riorganizzi un pochettino tutto per poi giocartela davvero nella stagione successiva non dobbiamo neanche dimenticare che per la proprietà la nuova proprietà della propatria sarà stato sicuramente un investimento gestire la stagione ma un investimento anche rientrare di alcune situazioni pregresse lasciate dalla precedente gestione per cui ci può stare secondo me hanno fatto una scelta che deve vedere e vorrà vedere protagonista nella prossima stagione di serie di la propatria e hanno baste possibilità che Alessio del Piano si fermasse a sesto si sono praticamente azzerate questa settimana ma quello di Alessio del Piano è uno dei pochi nomi che ha fatto il suo presidente Matteo in conferenza stampa quando gli hanno chiesto rimarrà in strano l'eletti gli ho detto dobbiamo parlare dobbiamo vedere un po' di cose dovrò anche togliermi qualche sassone dalle scarpe non penso di ferito a lui ma di ferito al fatto di dire alcune cose che difendessero il mister in questa stagione però non nascondo che ho un buon rapporto nato a Monza con Alessio del Piano l'ho sentito non resterà a sesto e quindi potrebbe essere un'opzione una delle tante potrebbe essere una delle tante opzioni in questo ultimo mese e mezzo siamo passati dall'essere al fianco di Matteo in trincea a essere sopra e valutare il suo operato il suo rapportarsi con la società insieme al direttore del Piano è uno dei nomi che è stati fatti non lo nascondo neanche io oramai il press si è sbilanciato abbiamo fatto due chiacchiere anche con lui in fronte dell'ottimo rapporto che è nato l'anno scorso ed è continuato in questa stagione ci siamo visti e sentiti più volte nel corso dell'annata vedremo insomma stiamo valutando insieme al direttore quale scelta verrà fatta per l'anno prossimo e mi auguro anche a questo punto per il futuro dato che è un progetto a lungo termine non destinato a fermarsi a fine della prossima stagione il tuo nome Achille ma te l'abbiamo detto noi stasera e sei finto e finto benissimo è stato avvicinato invece dal processo insieme a quello di Manzo e di Dionisi per sostituire Alessio Di Piano sarebbe già un grandissimo onore non sto nascondendo niente non so assolutamente niente ho qualcosa anch'io ma credo che sia un po' presto parlarne visto che prima sarebbe giusto trovarsi con dei direttori e società con la quale devo ancora devo parlare quindi inutile hanno accomunato Dionisi alla panchina della Prosesto è arrivato il messaggio di Bobo non avevamo detto anche un discorso non avevamo voluto rompere le scatole un allenatore ancora impegnato nei playoff ma il fatto che il suo direttore sportivo vada a Fiorenzuola può far pensare che lui lo segua a breve ahimè per Andrea Ciceri che comunque Fiorenzuola ha fatto un buon lavoro e ha salvato la squadra quindi questa è un'altra possibilità cosa carina il discorso se Regno è Anderoletti è possibile del piano come arrivo è che lo scorso anno a Monza invece c'era l'ipotesi che qualora si fosse rotto il rapporto con del piano un possibile sostituto era proprio Anderoletti quindi si intrecciano ancora un po' i distini tra queste due figure ancora una volta se mi lo ricordo credo che se prendiamo le categorie che a noi non competono sentire parlare di Conte all'Inter da due mesi quando si stava giocando una Premier League e tante altre robe credo che nei dilettanti se ne sentiranno da qua a fine giugno a metà luglio di tutti i colori poi bisognerà vedere cosa succederà quale vero quale no effettivamente chi lascerà chi rimarrà sì sì Alessandro Poloni ci scrive mazzoleni dalle richieste della lega pro nel Veneto però non è dotato di patentino sì mi hanno bocciato non ho ancora fatto non ho mai fatto domanda non ho mai fatto domanda e quella invece ci scrivono anche attenzione del piano a Ciserano metteremo anche questa opzione nel poi Alessandro Tononi scrive se non ricordo male il pronostico di Bobo si è avverato anche stavolta allora no non ricordi male si è avverato stavolta l'anche lo toglierebbe perché mettere l'anche vicino ai pronostici di Bobo è assolutamente un po' eccessivo allora diciamo veniamo all'eccellenza perché sono giocati i ritorni dei play out e quindi ci sono i verdetti un po' solo presa nel senso che sui 4 play out che si giocavano uno nel girone A uno nel girone C e due nel girone B si sono salvati in due casi le squadre che giocavano con il vantaggio del risultato e in due casi invece erano svantaggiate che avrebbero dovuto vincere è il caso del girone A di eccellenza che è quello più semplice da andare a vedere perché qui non c'erano play out il Pavia va direttamente alla fase nazionale e poi vedremo gli accoppiamenti l'Union Villa Cassano aveva già vinto la gara da andata 2 a 1 è andata a vincere anche sul campo del Brera 2 a 0 e quindi si è salvato con Danano Albrea che se non sbaglio saliva nella promozione l'anno scorso ricordo male no? sì ecco quindi è una mia promossa a ritornare in promozione questo quanto è successo nel girone A aspetta ma dici il Brera? sì il Brera ha preso il titolo al Gessato se ti ricordi che aveva rinunciato alla categoria di eccellenza è il titolo del Gessato e quello del Brera poi girone B qui si giocava il play out quello fra Casatese Logoredo e Villavalle terminato 1 a 1 gol di Consolazio che ha regalato il turno della fase nazionale alla propria squadra e poi si giocavano le gare di ritorno e la Manara ha vinto con la Rodense in casa e quindi qua ha stato fatto valere il fattore campo la Trevigliese ha pareggiato gol se non sbaglio al novantesimo di Grigis comunque nella finale di partita con il Mapello Bonate in casa e anche qui come ci ha ricordato un messaggio di un nostro terriospettatore va sul fattore campo e quindi Trevigliese e Manara faranno la categoria il Mapello Bonate retrocede per la seconda volta in due anni era in Serie D l'anno scorso Achille tu sei legato a questa società perché l'hai salvata in un play out abbastanza focoso e dove ho anche smesso di giocare e ho iniziato l'anno hai fatto il giocatore allenatore quell'anno bravissima e poi hai Fede Villa valla 1-1 1-0 1-1 eh sì ho sbagliato eh sì eh sì se torniamo dietro di tre anni tre anni fa erano in Serie D credo che abbiano di sicuro sbagliato qualcosa in questi ultimi due anni anche se poi purtroppo per le piccole squadre piccole società senza nulla togliere il Mapello Bonate che venivano da questa fusione Mapello e Bonate per fare la Serie D appunto credo che quando poi si retrocede dalla Serie D venga un po' tutto una cascata inizia a perdere magari qualche sponsor inizia a perdere qualche qualche giocatore importante e ci sta anche di fare però forse la discesa dalla Serie D Claudio non è stata vissuta in modo drammatico perché forse era complicato mantenere quella categoria però passare dall'eccellenza alla promozione così d'amblè in un anno ma credo che no la retrocessione non sono addentro alle vicende societarie del Mapello Bonate ma credo che sicuramente il mister Mazzolini abbia dato un'indicazione molto precisa la retrocessione è già un qualche cosa che può lasciare diciamo un po' un segno se sicuramente poi a livello di società qualche cosina si perde ecco che allora un po' in lucidità un po' nel corso della stagione diventa tutto più difficile e a mio avviso questo è stato quello che ha un po' pesato sul Mapello Bonate prima che intervenga Giulio che avrà sicuramente una news sento dire ma io scusate se uso questo termine ma sono le voci che si sentono in Bergamasca insomma di una figura importante oggi o comunque che ha terminato la sua stagione al Mapello Bonate essere potenzialmente molto vicino al Pontisola e quindi alla società del presidente Bonasio e parliamo di una figura che è uno sponsor importante per il Mapello Bonate quindi anche queste situazioni queste possibili tensioni in seno alla società non hanno sicuramente aiutato il Mapello Bonate a conquistare la salvezza Giulio ti si avevo due cose a dire una è un po' legata a questa e l'altra cosa l'esperienza simile che ha vissuto il Mapello è quella della Castellana la Castellana l'ha vissuto Giulio dopo parecchi anni in Serie D si è trovata in eccellenza forse a livello economico con meno contraccolpo rispetto al Mapello Bonate anche se comunque è stato un salto all'indietro dopo tanti anni pericoloso un po' come era per il Mapello si noi in realtà abbiamo avuto abbiamo avuto un attimo esatto il problema imposto perché noi abbiamo fatto bene l'anno scorso esatto perché avevamo forse una voglia di riscatto che quest'anno invece non c'era perché siamo partiti quest'anno un po' con la puzza sotto al naso l'anno scorso abbiamo fatto i playoff forse ci sentivamo fuori categoria l'abbiamo pagata un po' quello che è successo a Luciano Manara nel giovane B ci si aspettava ci si aspettava e alla fine si è salvato i playoff invece esatto quindi per questo dico che noi abbiamo avuto un po' il problema opposto perché in realtà l'anno scorso forti di questa voglia di riscatto in realtà abbiamo fatto una grande stagione che quest'anno invece è un po' meno non è stata ripetuta un'altra cosa volevo dirti che il Villa Dalmè anche lì c'è un po' di movimenti societari perché alcune figure tra cui il vicepresidente e Testa sono usciti sono andati in una società che era in media di seconda categoria dovrebbe prendere la prima categoria comunque c'è un progetto da cui sono usciti dal Villa poi a livello di budget non so dirti anche perché entrano persone nuove quanto cambia in più o meno il discorso di Villa Dalmè però c'è questa novità a livello dirigenziale quindi alcune persone il vicepresidente che esce dal Villa Dalmè allora io direi che posso anticipare la pubblicità perché abbiamo ancora il girone di Cicci da vedere ma visto che è il girone di Giulio facciamo chiacchierare un po' su quello che è successo tra playoff e playout direi interromperci adesso e torniamo fra pochissimo eccoci qua allora girone C di eccellenza quello che manca all'appello anche qui c'è un unico playout con un risultato assolutamente inatteso non tanto nel risultato in sé quanto nella dimensione anche se poi ci sono stati tra rigori ci sono lamentele varie e poi c'erano appunto i due turni di playoff il turno suate di playoff che già l'ha visto uscire di scena le due favoritissime perché il Bobano e la calcio romanese li avevano giocati da sfavorite e quindi avevano eliminato invece Orceana e vabbè la Benizzolese che ce l'è arrivata da comunque sorpresa adesso si è giocato il secondo turno anche qua perché io faccio le grafiche e non ci penso è 3 a 0 per la calcio romanese il risultato e non 0 a 3 per il Bobano era 0 a 3 perché era invertito vabbè quindi la romanese ha vinto 3 a 0 ha passato il turno e quindi accede alla fase nazionale l'Orsa che aveva pareggiato 2 a 2 con il Montichiari è andata a vincere 4 a 1 sul campo del Montichiari dicevamo tra rigori prima uno per l'Orsa poi uno per il Montichiari poi un altro per l'Orsa tutti nel primo tempo e il risultato è stato che l'Orsese si è salvato e il Montichiari è retrocesso Giulio a pensi Giulio Castellana diciamo così almeno mi distingiamo pensi che i valori siano giusti Verdetti che ha dato questo girone la vittoria del Rezzato le due retrocessioni dirette Montichiari che si aggiunge alle due retrocessioni siano giusti all'Isabese e all'Assarnico o sì penso di sì penso che alla fine i valori siano usciti e che effettivamente il Rezzato abbia ammazzato il campionato lo sapevamo una corazzata che con l'eccellenza c'entra poco secondo me e tra l'altro so che stanno ancora anche rinforzando l'organico per fare una buona serie D per quanto riguarda le altre secondo me il calcio era la favorita dopo il Rezzato infatti mi sono sorpreso comunque perché l'Orceano ha fatto secondo me un signor campionato arrivando a seconda però nei playoff però forse la Coppa Italia ti dà un po' fastidio soprattutto se hai una rosa lunghissima e ti alleni di sera perché la calcio è meglio la sera vero infatti anche con noi mi ricordo che avevano un turno di Coppa non hanno fatto giocare i titolari questo sicuramente gli ha costato qualche punto però avevano l'opportunità di far bene in Coppa Italia secondo me hanno fatto bene e poi alla fine comunque sono usciti i valori nei playoff infatti loro hanno vinto secondo me agevolmente diciamo che non è una sorpresa ecco per quanto mi riguarda invece i play out col Montichiari che ha avuto l'ultima giornata quest'occasione di passare dalla penultima posizione a passare alla quartultima quindi avendo anche il vantaggio del risultato poteva dargli entusiasmo invece questo 4-1 ha sorpreso un po' anche me però alla fine penso che Montichiari nel girone di ritorno ha fatto se non sbaglio sette punti o sei o sette quindi diciamo che non erano proprio in condizione ottimale quindi anche in questo caso penso che il valore sia stato rispettato c'è qualche squadra da cui ti aspettavi qualcosa di meglio non so il Brusaporto che se ne è uscito dai playoff all'ultimo giornale non me lo spiego perché il Brusaporto per me rimane la squadra che gioca meglio nel nostro girone ma da due anni a questa parte da quando siamo scesi in eccellenza cioè da due anni non mi spiego come non possano arrivare tra le prime cinque perché sono veramente hanno giocatori di qualità giocano un bel calcio hanno chi segna forse l'unica cosa è che sono un po' sbilanciati e quindi prendono un po' troppi gol però veramente hanno una qualità incredibile noi tutte le volte che ci giochiamo ci facciamo il segno della croce in difesa perché sappiamo che sarà una partita molto molto dura e infatti anche quest'anno è stata così poi si vede che hanno qualche spesso fanno delle serie di partite da 3-4 sconfitte di final forse penalizzano troppo quest'anno infatti Giulio era un partito malissimo intanto è che giravano voci più o meno veritiere ma meno che più sul fatto che potesse esserci una soluzione in panchina soluzione in panchina che però potrebbe esserci quest'anno cioè Cefis potrebbe non rimanere sì direi al 5% sembra che rimanga esatto addirittura sembrava quasi fatto un ritorno di Oldoni che allenava il Casazza ma non sembrava da importo questa cosa quindi c'è ancora un punto di domanda ti do due nomi di mister invece del Gironi B perché Caprino è quasi sicuro salvo con sorprese la panchina Ottolina che ha vinto il campionato quest'anno con l'Arcellasco ex Emerate Karatese e Villa del Me anche qua sembra esserci sembra esserci un ritorno che è quello di Tarchini io ho invece rubato un po' di notizie spinte sporche danno Bertani molto vicino al Nibionno il giorno danno Tassi in partenza verso il mi ci voleva Bobo in questa occasione perché lui lo sente spesso in partenza per l'eccellenza Piacentina Romagnola Emiliana quantomeno e quindi lascia la panchina San Colombano San Colombano un po' rivoluzionato perché ha lasciato anche Scogna Miglio che era il direttore abbastanza storico Tassi è di casa per voi anche qui ci saranno grandi novità ma adesso se Bobo mi ha sentito mi manderà tutti gli aggiornamenti per chiudere il discorso sull'eccellenza mi date la griglia degli accoppiamenti del nazionale così andiamo a vedere quali saranno le prossime avversarie di Pavia Casatese Logoredo e calcio romanese le ho divise così perché poi si piglieranno fra di loro per cui si gioca il 21 e il 28 andata e ritorno la calcio romanese ha come avversario la Juve Domo il Pavia beccherà il Vado e poi chi passerà si incrocerà fra di loro il Bozner di cui è informatissimo Giulio adesso ci facciamo dare un po' di dritte invece è il prossimo avversario da Casatese di Logoredo e l'altro è Budoni in Valle del Tevere sulla carta sembra è l'avversario playoff più a sorpresa cioè è arrivato secondo non c'erano i playoff in Trentino Alto Adige e a sorpresa già ci sono degli allenatori che sa già dove andare al prossimo anno vai a lievi nazionale su Tirol la squadra quindi dovrebbe ridimensionarsi sembra quindi sembra sulla carta un avversario teoricamente facile hanno però un giocatore più forti del Trentino che è Bertoldi un attaccante che ha fatto tipo 33 gol lo scorso anno e altre tanti quest'anno è il marrazzo del Trentino questo Bertoldi però è una squadra che già in ottica non sembra voler salire in Serie D poi il campo tutto può cadere però è un po' questa la situazione del Bosnia è un quartiere di Bolzano a proposito mi viene in mente a proposito di attaccanti che spampati non resta Verdello ma potrebbe essere dovrebbe tornare nella sua valle quindi Valle Seriana all'Albino Gandino sembra molto probabile già riferimento a Fabio spampati Verdello appunto non a spampati Darfo ma il mister Mignani va quindi allo Juventus Stadium no è Juventino che tu sappia no non credo non credo no però Juve Domo vuol dire domodossola credo di sì sì è piomontese ma mister Mignani grandissimo fa autore di questo risultato secondo me insieme al suo gruppo di ragazzi perché dicevamo prima sicuramente ha pesato nell'economia della stagione anche questo impegno in Coppa Italia dove avevano fatto davvero molto bene e fatto sognare la calcio romanese e i suoi tifosi comunque una rosa abbastanza stringata e misurata credo che in questo caso vada dato atto a Giacomo Mignani di essere maturato tantissimo e di aver acquisito un'esperienza importante nella gestione di tutto il gruppo nel modo in cui ha saputo operare e credo che insomma qui ci sia gran parte del merito suo mister che non molla niente perché stasera ha fatto allenamento io ho avuto modo e piacere di sentirlo perché trocani sabato e quindi no adesso no scusa 21-28 è domenico domenica sì sì e però stasera era sul campo e l'ha fatto per evitare perché gli avevo detto un discorso vabbè se non te l'hai lunedì prossimo ti invito mi sa che sei allenato per quello allora invece abbiamo parlato di giovani stasera le iene di giovedì scorso delle 10 di maggio hanno mandato in onda un servizio che è partito da un un articolo appasso su Sprint Sport di Vincenzo Basso che praticamente ha scoperto una truffa perché di questo stiamo parlando praticamente c'erano delle società Equipe Europa piuttosto che US Frial che promettevano a giocatori che facevano un provino la possibilità di essere selezionati poi di andare a giocare in America nella serie C americana unindo questa cosa anche allo studio e quant'altro vabbè si è scoperto che non era vero niente che ci sono società serie che fanno cose di questo genere ma questo non era il caso le Iene hanno indagato perché poi è sempre difficile riuscire a capire chi ci sta dietro a certi giri e loro l'hanno capito sono arrivati in contemporanea i carabinieri noi vi proponiamo un pezzettino dell'indagine delle Iene è partita appunto da Vincenzo Basso di Sprint Sport e da quello che lui aveva scritto e è arrivata poi ai colpevoli o quantomeno presunti tali perché naturalmente finché non c'è una sentenza ce ne guardiamo bene andiamo a vedere vabbè abbiamo capito non ci rimane che metterci alla ricerca del fantomatico misterino navigando sui siti che gli davano spazio incrociamo i vari articoli e un nome ricorre spesso è quello di Luca Natale in Broinisi cercando meglio troviamo anche un video di alcuni anni fa dove in Broinisi viene intervistato su un campo di calcio stiamo facendo una preparazione precampionata diciamo per là dobbiamo risalire in Svizzera e quindi con un software audio mettiamo a confronto la voce dell'intervista con quella della telefonata 100 euro quindi sono a dotare il progetto è il calcio dove è stato 30 diversi gruppi questo migliori una preparazione precampionata diciamo per là dobbiamo risalire in Svizzera e lui e lui passiamo alla poste pay abbiamo il numero e il codice fiscale dell'intestatario anzi dell'intestataria visto che sembrerebbe corrispondere esattamente alla fidanzata per vie traverse scopriamo anche l'indirizzo e il paese dove vivono arriviamo sulle colline del Monferrato ed eccola là la casa ma mentre studiamo una strategia su come muoverci c'è un imprevisto arriva una macchina dei carabinieri e tre militari scendono andando verso l'entrata ci hanno anticipato decidiamo allora di spostarci in caserma la cosa gli hanno preso ed eccolo lì il nostro mister x alias Luca Natale Imbroinisi Imbroinisi finalmente ti abbiamo trovato Alessandro Giuseppe taglia uno le iene come vanno le truffe online non parli non dici niente hai perso la voce quasi nei truffati dei calciatori non hai vergogna prenderti gioco dei ragazzi che giocano a pallone e vivono i loro sogni Messimiliano Bellucci usi anche i nomi di comodo vedo anche con compagna la titolare della poste pay su cui arrivavano i soldi dei calciatori truffati la poste pay sei tu la titolare della poste pay ma come quando mai questa qua non sei tu artista guarda qui questa qui non è la poste pay dove arrivavano i conti i soldi delle truffe che avete fatto ai calciatori i provini di calcio a 100 euro alla volta nessuno dei due risponde alle nostre domande se non così e poco dopo anche la fidanzata complice ci ripensa corre fuori dalla caserma e ci affronta in maniera erruenta che cosa che non ci viene ma che cosa di che cosa cosa è finito di truffare la gente hai capito? dopo quattro ore di interrogatori con i carabinieri la coppia a questo punto denunciata per una serie di reati tra i quali sostituzione di persona truffa e ricettazione esce dalla caserma allora io al momento non posso parlare perché ci sono delle indagini in corso abbiamo raccolto scusa mi fammi finire testimonianze di calciatori adesso mai che mi ha visto a me a fare qualcosa voi avete l'aria di essere un po' i Bonnie and Clyde della truffa online cioè assolutamente ti assumi la responsabilità di quello che stai dicendo insieme a chi ti ha mandato te l'assumi? mandami sì signor allora tu mandali e io ti farò poi avere la prova che ti stai sbagliando ragazzi che vi avvicinate al calcio e volete fare un provino accertatevi che il provino sia vero e soprattutto gratuito se no rischiate di essere truffati da soggetti come questi qua ok? questo è quello che è successo naturalmente ci uniamo all'invito di verificare bene quello che succede questi facevano provini senza nulla ossa della società senza quindi copertura assicurativa e quant'altro di gente che millanta di potervi offrire chissà che opportunità ce ne sono in giro tante purtroppo ce ne sono in giro anche a livello di procure e robe varie nel settore giovanile quindi voi che dovete lavorare con i giovani state ben attenti a quello che succede perché se ne vendono veramente di più e di ogni andiamo ai pronostici così chiudiamo la tornata e vediamo se ci azzecchiamo non c'è Bobo non lo posso chiedere la nave è sempre lì che aspetta di partire ma lui non c'è possiamo chiederci più che altro vabbè i due pronostici dei due gironi di serie di Giulio Varese è quella di la 9 di Bobo Varese Gozzano e Ciliverga Virtus Bergamo Beh Gozzano è la squadra che è la più informa in assoluto quindi ora non è quello è il favorito sullo scontro poi verrebbe facile dire Varese per il discorso piazza e quant'altro vince Gozzano Giulio dice Gozzano e e l'altro Ciliverga Virtus due due ma faccio valere il cuore per i gamassi non saprei sinceramente che sarà abbastanza preoccupato nel prossimo fine settimana il tuo cuore bergamasco Claudio ma io cambio il pronostico a favore del Varese rispetto invece a quello che ha espresso Giulio per quel che riguarda invece Ciliverga e Virtus Bergamo siccome se dicessi che il cuore è un po' bergamasco e vince il Ciliverga allora Bobo che naturalmente non si sottrae manda un messaggio e dice Gozzano e Virtus Bergamo è d'accordo con te Giulio però non è che ci può in mezzo che a volte mi seguito Bobo già è nata bene una volta Giulio per quello che puoi aver seguito di questi giorni soprattutto le piumentese non penso magari no vabbè mi affido per quanto riguarda Varese e Gozzano mi affido al loro quindi non mi sbilancio più di tanto invece per quanto riguarda il Ciliverga c'è Bertazzoli che è un grande amico quindi speriamo che passi il Ciliverga Matteo io dico Gozzano nel Gironeale e Ciliverga nel nostro Achille io invece no credo Varese e Ciliverga per il fattore campo soprattutto il Varese e Ciliverga perché comunque 75 gol in campionato e aver battuto ancora la Propatria vuol dire che stanno ancora molto bene sì allora io faccio i saluti e ringrazio appena i panchini ci farei sapere così cambiamo la percentuale nello schema e anche Frassini appena avete il mister sperando che non sia una panchina di qualche parco lì sul lago di Lecco a me però uno può anche aspettare l'occasione ma certo allunghiamo le vacanze io resto lì io resto lì tranquillo salvo grossi sconvolgimenti sì resto lì allora in bocca al lupo ad Achille Mazzoleni al Saregno di Matteo Fraschini alla Castellana e naturalmente a Giulio Mariani Claudio e Bobo ci vediamo Bobo Claudio e Giulio ci vediamo un fantasma di Bobo che legge nello studio ci vediamo lì prossimo con gli ultimi verdetti no neanche volendo perché se dovesse andare avanti qualcun eccellenza nei playoff nazionali avremo ancora qualcosa da seguire ma poi vi aggiorneremo magari dureremo un po' di meno ci vediamo lì 20 e 30 prima dei saluti Fede lasciami aggiungere avrai sicuramente un contributo a livello di immagini un pochino più scarno nella prossima puntata mancando qualche partita dico invece che le formazioni under 16 del rugby dei Raptors Valcavallina e del Bergamo si affronteranno nel secondo turno del trofeo interregionale per cui è un Raptors Valcavallina Bergamo Rugby che giocheranno domenica alle 12 e 30 a Trescore Balneario chissà mai che non possono vuoi un pronostico di Bobo su rugby? non lo vuoi vuole un pronostico di Bobo sempre ok ricordiamo l'appuntamento con il calcio a stoie c'era prima della trasmissione ci sarà anche dopo con Giorgio Burreddu è un giornalista è bergamasco è abbastanza schivo adesso vive a Bologna e lavora per il Corriere dello Sport ma ha scritto diversi libri che parlano di calcio ne chiacchiera insieme a Gianluca Formica in studio per cui non perdetevi l'appuntamento del calcio a stoie adesso oppure su Facebook da mercoledì arrivederci e grazie a te una stangata cerchi la schivata passerà e quel giornalista spara un colpo basso guarda un po' e tu alla ricerca di un santo in più e tu vorresti solo che sia un gol semplicemente il programma è stato offerto da Corpo Vigili dell'Ordine un'organizzazione su cui contare